Finalmente Intel ha annunciato i nuovi processori di dodicesima generazione con nomi in codice Amberlake In realtà dato un po' la storia degli ultimi rilasci di Intel, questo annuncio non sembra nulla di eclatante Tanto che io non avevo neanche idea che ci fosse stato fino a che non me l'avete detto voi Ma in realtà è molto più interessante di quanto sembri Iniziamo dalla cosa più importante, la nuova architettura ibrida Praticamente nei nuovi processori Intel saranno presenti due tipi di core I performance core che sono, come facilmente intuibile I core più veloci ma anche che scaldano e che consumano di più E dopodiché gli efficiency core che sono più lenti ma scaldano e consumano di meno Mentre montavo il video mi sono reso conto che effettivamente non vi ho spiegato a cosa servo questa separazione dei core Praticamente grazie ad Intel 3 Director il sistema operativo potrà scegliere di assegnare le tasche più importanti Come ad esempio un gioco che state giocando o il rendering di un video ai performance core Mentre ad esempio a processi come Windows Update o comunque processi di background Verranno assegnati gli efficiency core Intel ha lavorato con Microsoft per implementare questa cosa al meglio su Windows 11 Quindi ci sarà da vedere come gireranno queste CPU su Windows 10 Se per caso lo voglio usare ancora o addirittura su Linux Tra l'altro finalmente Intel non ci credevo neanche io ma ha abbandonato i 14 nanometri E quindi adesso abbiamo finalmente un processo produttivo a 10 nanometri Vediamo quindi i processori che sono stati presentati Abbiamo l'IN9 12900K con 8 performance core con hyper trading e 8 efficiency core I performance core hanno un base clock di 3.2 GHz e un boost fino a 5.1 Mentre gli efficiency hanno un base di 2.4 GHz e un boost di 3.9 GHz Mentre per quanto riguarda il TDP c'è un attimo una piccola precisazione da fare Questa volta Intel sta presentando due valori Il PBP processor base power che rappresenta il picco garantito alla frequenza base E l'MTP maximum turbo power che rappresenta la potenza massima che la CPU può usare al massimo del turbo boost In questo processore il PBP è di 125 Watt Mentre l'MTP è di 241 Watt Il tutto per un MSRP di 289 dollari Dopodichè abbiamo gli 7 12700K con 8 performance core con hyper trading e 4 efficiency core I performance core hanno un base clock di 3.6 GHz e un boost di 4.9 Mentre gli efficiency hanno un base di 2.7 GHz e un turbo di 3.8 Il PBP di 125 Watt mentre l'MTP è di 190 Watt Il tutto per un MSRP di 409 dollari Infine abbiamo gli 5 12600K con 6 performance core con hyper trading e 4 efficiency core I performance core hanno un base clock di 3.7 GHz e un boost di 4.9 Mentre gli efficiency core hanno un base di 2.8 GHz e un boost di 3.6 GHz Il PBP è sempre di 125 Watt mentre l'MTP è di 150 Watt E tutto questo per un MSRP di 289 dollari Tutte queste 3 CPU sono disponibili anche nella variante F senza GPU integrata Che in questo caso è una Intel UHD Graphics 770 Per risparmiare qualcosina se comunque avete intenzione di usare una GPU dedicata Un'altra parte interessante delle novità di questa generazione riguarda la RAM Finalmente inizia ad essere introdotto il supporto alle RAM DDR5 con velocità fino a 4800 megatransfer per secondo Continuano ad essere supportate anche le RAM DDR4 ma ovviamente non potete installare RAM DDR4 e DDR5 contemporaneamente Anzi è molto probabile che ogni scheda madre avrà o il supporto alle DDR4 o il supporto alle DDR5 Non ad entrambe Ma non c'è solo questo È stato infatti anche presentato XMP 3.0 Lo standard per l'overclocking delle RAM che adesso supporta ben 5 profili Invece che solo 2 E di questi 5, 3 saranno preconfigurati dal venditore E 2 li potete configurare voi In accoppiata con l'XMP 3.0 abbiamo anche Dynamic Memory Boost Che in maniera molto simile a cosa mai succede già con la CPU Barierà la frequenza della memoria tra quella default del modulo e quella boost configurata nell'XMP Questa cosa è compatibile sia con DDR4 che con DDR5 Assieme a tutte queste nuove feature abbiamo anche il PCI Express 5.0 Io ero rimasto al 4.0 che era tipo WAAHA Il mio computer che ha 3 anni manco lo possiede E mocio già il 5 La figata è che la velocità massima del PCI Express 5.0 a 16 linee è di 63 gigabit per secondo Il che vuol dire che con solo 4 linee abbiamo la stessa velocità che col PCI Express 3.0 abbiamo con 16 E se non è una cosa incredibile questa non so cosa lo sia Chiaramente da tutti questi cambiamenti ne deriva un nuovo socket L'LGA 1700 Nulla di eclatante ma dovete quindi cambiare le schiena mater e anche possibilmente il dissipatore Oppure prendere un qualche tipo di bracket per adattare quello vecchio Assieme al socket è stato presentato anche un nuovo chipset Z690 Che introduce ad esempio il supporto nativo al wifi 6e e all'USB 3.2 Gen 2x2 20 gigabit per secondo Ho voglia di picchiare ogni singola persona che ha pensato che questo nome fosse una cosa decente Ok ma le performance effettive? Chiaramente ancora ci dobbiamo basare su quello che ci dice Intel stessa Che diciamo potrebbe essere un po' di parte Però comunque possiamo iniziare a darci un'occhiata In gaming Intel ha confrontato l'i9 12900K con l'11900K e con il Ryzen 9 5950X E notiamo che si arriva fino a un 30% di più di performance rispetto al Ryzen Apprezziamo l'onestà di aver lasciato quel meno 3% C'è da far notare però che hanno fatto i benchmark su Windows 11 E per quanto fare i benchmark sull'ultima versione del sistema operativo sia effettivamente una cosa buona Se vi ricordate su Windows 11 c'era questo problema ora fixato dove il CPU AMD performava peggio Ed è molto probabile che quando Intel ha fatto i benchmark la patch ancora non fosse uscita Abbiamo anche dei benchmark per quanto riguarda la content creation Ma in questo caso non abbiamo un confronto con processore AMD ma solo tra il 12900K e l'11900K Forse Intel si spaventava? Non si sa Loro hanno fatto dei test su Adobe Premiere, Lightroom e After Effects usando la suite di benchmark PugetBench Possiamo notare che su Premiere e Lightroom si ha un aumento di performance del circa 30-35% Mentre su After Effects c'è addirittura un vero e proprio raddoppio rispetto all'11900K E detto questo direi che non ho altro da dire su queste CPU Se non che escono il 4 novembre e mi ero scordato di dirlo prima Escono il 4 novembre Ed è bello essere in questo periodo storico dove effettivamente c'è della competizione del mondo tech Ma in ogni caso io sono povero quindi viva il mio Ryzen di seconda generazione E detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto Se cosa è stato lasciate un like, commentate e condividete Passate la Instagram o Twitter che torna come sempre la descrizione Passate al mio secondo canale da BB Spazio che trovate come sempre in descrizione Stasera se stare guardando il video appena uscito Alle 21 siamo in live qui su Yante Che distruggiamo Windows 11 live Ci sarà da divertirsi Non mi ricordo cosa mi sono scordato di dire Passate la tele che è a me da Discord Corso che è per tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Noi ci vediamo in un prossimo video Noi ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti.